Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, tutto ragazzi in questo nuovo video vi spiego come cambiare la frequenza di aggiornamento ovviamente scorrendo un po' le pagine lo vedi un po' meno fluido, 60 Hz che sarebbero 60 fps e da 60 fps passeremo direttamente a 120 fps, quindi cambiando la frequenza di aggiornamento quindi vai nelle tue impostazioni, vai a scrivere direttamente display per darti anche una maggior fluidità sul telefono solo alcuni telefoni hanno questa funzionalità, quindi vai su frequenza di aggiornamento, come puoi vedere la differenza garantisce anche una maggior fluidità mettendo 120 Hz ed eccolo qua, ovviamente se vuoi rimanere a 60 Hz anche per risparmiare la batteria puoi rimanere e io sono passato a 120 Hz, quindi se questo video ti è stato utilissimo come cambiare la frequenza di aggiornamento iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!